Ciao e benvenuti su Top Tech Italia. In questo video vi presenterò stando ai nostri gradimenti personali i migliori handpen del 2022. Mettetevi comodi e andiamo! Al quarto posto abbiamo selezionato l'handpen drum a nove note. Questo modello ha tutte le carte in regola per diventare il miglior handpen del 2022 ed è pensato per i professionisti, dilettanti o anche per i principianti. Una delle sue qualità è il valore del materiale utilizzato e realizzato in acciaio nitrurato. Questo aumenta i benefici del legno per un tono davvero pazzesco. Si adatta a tutte le situazioni perché si può suonare a mano con le bacchette. Fornito sempre con il manuale d'uso offre una gestione intuitiva per principianti a nove note di cui una centrale e otto toni. Ciò consente di ottenere suoni più morbidi e piacevoli e compatibile con un'accordatura accurata e professionale per ottenere quindi un suono ancora più ideale. Questo handpen è perfetto per le sessioni di yoga, rilassamento, attività religiose e molto altro ancora. Viene fornito con una borsa per il trasporto che vi permetterà di portarlo facilmente ovunque voi vogliate. Il design elegante e unico è dovuto alla sua lavorazione artigianale. Include anche un panno antipolvere per una maggiore cura. Come sempre su Top Tech Italia se volete avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche? Beh, cliccate sui link nella descrizione, mi raccomando. Al terzo posto abbiamo selezionato l'handpen AS Teman. Questo modello è stato progettato con materiali di alta qualità, durevoli, robusti e resistenti, come ad esempio l'acciaio all'azoto. Da qui il suo colore è attraente e il suo suono piacevole, un suono morbido che offre e vi accompagnerà il più a lungo possibile durante i vostri eventi. È suonabile sia con le mani che con le bacchette, il che offre una libera scelta di utilizzo. L'azione delle mani e delle dita su questo handpen produrrà un suono ancora più morbido e piacevole rispetto ai suoi congeneri. Fornito con una borsa per il trasporto vi dà la possibilità anche di portarlo ovunque voi vogliate. Con il suo design a 10 note offre una nota centrale e 9 toni. Ha un'impugnatura intuitiva che rappresenta un vantaggio sia per i principianti che per i dilettanti. Trovate anche un panno antipolvere che consente di tenerlo sempre pulito come il primo giorno. Al secondo posto abbiamo selezionato l'handpen Teman Asteman 888. Progettato con materiali di alta qualità, resistenti, robusti e durevoli come l'acciaio all'azoto, vi accompagnerà nei vostri eventi il più a lungo possibile e dotato di un'impugnatura intuitiva che ne faciliterà l'utilizzo. In questo modo sia che siate professionisti, dilettanti o principianti vi adatterete facilmente. È dotato di tre piedini antiscivole in materiale pregiato per una stabilità davvero ottimale. Questo migliora ulteriormente l'effetto di risonanza del suono. Con il suo design a 10 note offre quindi una nota centrale e nove toni standard. Si può suonare sia a mano che con le bacchette. La borsa per il trasporto ne facilita l'utilizzo. Il panno antipolvere consente di pulirlo in modo facile e veloce. È perfetto quindi per la meditazione, lo yoga, l'attività di rilassamento e molto altro ancora. Il suo design puramente artigianale gli conferisce quindi un design davvero mozzafiato. grazie al manuale d'uso l'utilizzo sarà ancora più semplice. E vi ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato per voi su internet, beh, cliccate sui link nella descrizione. Lo avete già fatto? Al primo posto abbiamo selezionato lo strumento musicale MAN 11561. Questo strumento musicale è perfetto per i viaggiatori. Infatti non è solo dotato di una borsa per il trasporto che vi permetterà di portarlo ovunque vogliate, ma anche il suo peso vi farà sembrare di non portare nulla. Ha una finitura anticorrusione per un'incredibile resistenza alla ruggine. Inoltre è anche dotato di numerosi altri accessori che gli consentono di resistere a eventuali urti. È progettato quindi con materiali di alta qualità, robusti e molto resistenti, ad esempio come l'acciaio. Quest'ultimo vi permetterà di avere un handpen abbastanza resistente da accompagnarvi il più a lungo possibile. Il suo design infine a 10 note offre una nota centrale e 9 toni. Questo vi offrirà una diversità sul suono finale da realizzare. Ora quello che ti invito a fare è molto semplice, iscriviti al canale, lascia un like, attiva la campanella e segui tutte le novità targate Top Tech Italia. Alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao!